Il sedicesimo forum Qua l'energia di Lega Ambiente, Chioto Club, la nuova ecologia, siamo in compagnia di Felice Egidi, presidente di ESI. Ecco qual è la buona pratica che oggi ESI ha portato al centro di questo forum. E grazie intanto, grazie di questa opportunità. ESI come acronimo è Energy System Integrator, una società di ingegneria, sostanzialmente tutti ingegneri o quasi, è una società che progetta impianti e vende la tecnologia costruendo gli impianti chiave in mano. Questa è la peculiarità di ESI. Quindi impianti di grossa taglia con committenti molto importanti, normalmente gli utility di grossa scala. Noi siamo anche in Africa, dove abbiamo fatto vari progetti in Africa per conto di Ollus europei, dove sostanzialmente sono progetti che vivono staccati dalla rete. Il sistema Integrator deriva da lì. Questo ci ha dato l'opportunità di fare una grossa esperienza che nel settore dell'accumulo delle batterie, che oggi è anche nel forum che abbiamo visto oggi molto interessante, si è molto discusso di accumuli. Quindi noi, dato che non abbiamo peculiarità tecniche o da seguire mode particolari, noi siamo aperti veramente allo sviluppo tecnologico e a qualsiasi tecnologia che possa dare un'innovazione al nostro prodotto. Quindi questo facciamo. L'Italia, il mercato, oggi abbiamo parlato anche di questo, è un mercato che ha un potenziale incredibile, perché i target europei del 2030 sono target fondamentali e molto sfidanti. Siamo ancora lontani da questi target, quindi abbiamo ancora questi sette anni per cercare di incrementare, quindi c'è una grande opportunità da un punto di vista, ma anche un grosso freno a mano tirato spesso per tutte le problematiche classiche del permitting e delle situazioni locali che frenano un po' questo sviluppo. Cosa di cui si è dibattuto molto. Io la vedo positivamente. Lo sviluppo può essere fatto senza occupare eccessivo suolo. Questo è un altro dato che è venuto oggi molto interessante. Tutti hanno il terrore, parlano di grandi occupazioni di suolo. In realtà, se andiamo a vedere la superficie che per occupare, per raggiungere i target europei, al 2030 è circa dallo 0,3% allo 0,1%. Quindi sono spazi molto limitati. Si è parlato anche molto di agrivoltaico. Esi, da questo punto di vista, segui con l'apertura mentale che dicevo prima, tutte le tecnologie. Abbiamo fatto anche impianti flottanti, galleggianti, quindi su invasi artificiali. L'agrivoltaico è certamente un'opportunità e questo facciamo. Grazie a tutti.